E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Aria e benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action film da 2018 per la linea SH Figures dedicata ad Harry Potter, ecco tra noi appunto il maghetto Harry Potter. Eccolo qua nella sua fantastica confezione molto molto piccola, veramente carinissima con lo stile appunto di una copertina del libro, sembra proprio una cosa del genere. Qui c'è la scritta Harry Potter, qui sul retro vediamo un po' di pose della nostra figure, qui c'è appunto l'altro lato con un'immagine della nostra figure che sembra somigliare davvero tanto a Daniel Radcliffe quando era piccolo. Questa qui è la parte superiore con questa inspiegabile vetrina, non so a cosa serve. Questa qui invece è la parte inferiore con Harry in miniatura sulla scopa. Se volete acquistare questa figure ancora con uno sconto del 10% grazie al codice Natale 10 utilizzato nella posta sezione del carrello, lo potete trovare nel mio sito appunto Aras Reviews Shop nella scheda di in alto pure qui sotto in descrizione. Ma devi non perdere altro tempo, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Oh ed eccoci qui con il nostro Harry e tutti i suoi accessori e come potete vedere ragazzi dalla mole di accessori Bandai ha fatto le cose per bene questa volta. L'unica pecca è che non è presente una basetta, quella ragazzi costa veramente troppo Bandai includerla in ogni figure. Comunque andiamo subito a vedere gli accessori, cominciamo con le mani intercambiabili. Ecco le prime due sono veramente minuscole queste mani, come vedete sono per impugnare un qualcosa tipo i libri che sono un altro accessorio, comunque molto ben realizzate. C'è anche il painting sulle unghie che comunque è un dettaglio non da poco. Per il resto abbiamo queste due qui invece con il pollice alzato per impugnare appunto la scopa. E poi abbiamo queste due qui immancabili per impugnare appunto la bacchetta. E a proposito di bacchetta, eccola qui ragazzi, minuscola, perdibilissima, quindi fate molta attenzione se avete questa figure. Comunque è molto semplice ma realizzata bene nella sua semplicità. Altro accessorio presente sono questi libri, come vedete sono tutti uniti, non c'è modo di staccarli però è un buon tocco appunto dato che il nostro Harry è uno studente. Altro accessorio fantastico, più che altro minifigure, abbiamo la sua civetta Edvige. Eccola qua ragazzi, che figata, ma non finisce qui la figata perché? A parte che queste ali, vedete, sono posabili in questo modo tramite sfera, si possono anche, vedete, aprire leggermente di lato, ma la figata dicevo è che si possono rimuovere, vedete, in questo modo. E si possono attaccare queste altre ali intercambiabili appunto aperte. Ed ecco qua ragazzi la nostra Edvige con le ali spalancate, questa è veramente una chicca che assolutamente non mi aspettavo. Tra l'altro come potete vedere sul retro ha questo foro per un'eventuale basetta che purtroppo, ripeto, non è inclusa nella confezione. E ovviamente anche in questo modo le ali sono articolate, vedete, possono fare su e giù. Per il resto ragazzi vediamo i visi intercambiabili e io sono rimasto a dir poco senza parole quando ho visto il viso più nel dettaglio perché ha una somiglianza veramente incredibile. Forse una delle migliori se non le migliori che abbiamo visto su SH Figures rispetto al volto dell'attore. Veramente un piccolo capolavoro, anche gli occhiali sono fatti benissimo. Nonostante io la stia zoomando così tanto, come avete visto, la stampa non è sgranata per esempio come quella del Power Ranger bianco che abbiamo visto ieri. E questo qui è l'altro viso appunto che somiglia, vedete, anche questo tantissimo con espressione seria. Mentre quello di base che abbiamo sulla figure è leggermente sorridente. Penultimo accessorio che si combinerà con la scopa è questa tunica di ricambio appunto svolazzante, si può dire così, che potremo inserire su Harry appunto quando cavalca la scopa. Vediamo uno zoom sul logo di Grifondoro, veramente fatto bene anche questo. E ultimo ma non ultimo accessorio assolutamente, ecco qui la scopa, più precisamente la Nimbus 2000 come è scritto lì sul manico. Veramente fantastico, guardate qui tutte le sumature sulla parte finale fatte molto molto bene. Questa parte dipinta in dorato veramente figa. E poi abbiamo questo che è il cavalletto che tra l'altro è anche mobile, veramente fatta benissimo. Oh e passiamo finalmente a vedere la nostra figure nel dettaglio. Cominciamo dal viso che come vi ho detto è leggermente sorridente, anche questo somigliantissimo a Daniel Radcliffe. Anche la capigliatura è stata fatta veramente benissimo ragazzi, con delle sumature, vedete, di questo grigio scuro sopra il nero, per non rendere il tutto troppo piatto. E secondo me ci stanno veramente benissimo, guardate qui lo scalp dei capelli è fatto veramente veramente benissimo. Ecco l'unica pecca, vedete che gli occhiali visti di profilo sono praticamente appiccicati al viso, perché chiaramente sono un tutt'uno. Sarebbe stato figo magari avere un pezzo separato, però visti di fronte ragazzi rendono veramente tantissimo. Per il resto vediamo l'outfit del nostro Harry, questa è la tunica diciamo normale, non svolazzante. Anche qui il logo di Grifondoro è fatto molto molto bene, cerco di zoomarvelo al massimo. Una stampa precisissima, anche i dettagli comunque del maglioncino sottostante sono fatti molto molto bene. Come vedete è dotato di base di queste mani a palmo aperto. La tunica ovviamente è in plastica morbida, qui vediamo i pantaloni di questo grigio oscuro e vediamo anche le scarpe nere, anche queste comunque ben realizzate. Non c'è painting qui, ma è solo il colore della plastica, c'è lo scalp però dei lacci sopra. Questa qui è la suola delle scarpe, anche questa molto ben realizzata nel dettaglio. Lo vediamo velocemente anche sulla parte posteriore ragazzi, c'è semplicemente il cappuccio della tunica e nient'altro. Adesso andiamo a vedere le articolazioni del nostro aeree, guardate la testa quanto può guardare bene verso l'alto grazie alla cernina, può guardare anche molto molto bene verso il basso. C'è anche articolazione ovviamente alla base del collo, può muoversi quindi lateralmente anche in questo modo e può ruotare lateralmente in questo modo. Abbiamo l'apertura del braccio praticamente a 90 gradi, anche qualcosina in più. Rotazione a 360 gradi, il braccio può muoversi anche vedete in avanti in questo modo grazie alla butterfly joint. C'è naturalmente rotazione qui alla parte superiore, abbiamo l'articolazione singola al gomito però ha un ottimo raggio e non è neanche troppo brutta da vedere, anzi è molto bella perché non si crea praticamente gap. E per quanto riguarda il poso abbiamo rotazione e ovviamente il piegamento. Qui a mezzo bus sappiamo che questa articolazione a sfera che permette un movimento in avanti in questo modo, movimento anche all'indietro in questo modo però la tunica limita un po' il movimento perché in plastica si morbida ma non troppo. C'è anche movimento laterale in questo modo e c'è anche rotazione naturalmente qui alla vita nonché ulteriori movimenti in avanti e indietro nonché laterale. Per quanto riguarda le gambe non c'è la cerniera che porta in giù la gamba come al solito, la gamba va in avanti semplicemente fino qui comunque un buon raggio quasi 90 gradi. Può andare anche all'indietro in questo modo vedete. C'è la rotazione qui alla parte superiore, abbiamo il piegamento qui al ginocchio molto molto funzionale e neanche bruttissimo alla fine da vedere. E per quanto riguarda il piede il movimento in su è molto limitato allo scaldo del pantalone, abbiamo il movimento in giù in questo modo, la rotazione laterale in questo modo, la rotazione laterale della caviglia e anche il piegamento alla punta del piede, anche questo ottimo. Quindi come siamo abituati con le SH figures una figure veramente ben articolata comunque nel complesso. Andiamo a misurare l'altezza del nostro maghetto, siamo praticamente sugli unici centimetri e mezzo quindi 4 pollici e mezzo qualcosina in più. Eccolo qui a paragone per esempio con Gotenks e SH figures, più o meno vedete hanno la stessa altezza, ovviamente Gotenks è più alto per via del suo ciuffo di capelli enormi. Eccola qui con Vegeta blu e SH figures, naturalmente R risulta più basso di Vegeta. Ed eccola qui invece con il mitico monnezza Spider-Man che essendo 7 pollici ancora una volta non entra neanche nell'inquadratura per quanto è alto. Ebbene ragazzi la mia recensione di questo Harry Potter SH figures finisce qui, io veramente sono rimasto impressionato da questa figure soprattutto per la somiglianza ma anche per il comparto accessori che è veramente ben fornito. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa figure con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutare potete anche condividerlo. E vi ricordo che se foste interessati all'acquisto di questa o tante altre action figure le potete trovare nel mio sito Aras Reviews Shop nella scheda di in alto pure qui sotto in descrizione. Detto questo grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Arada, Harry e con le stiamo a te sempre.